Ottavo in graduatoria, primo degli esclusi. Sa di beffa per il colato insomma la griglia relativa alle società che troveranno posto nella prossima Serie D e riempiranno le sette caselle rimaste vuote per la mancata disputa dei playoff nazionali di eccellenza. Precedenza a Rotondo e Saluzzo, prime classificate ex equor rispettivamente nei campionati di Basilicata e Piemonte B. Salto di categoria anche per cinque seconde classificate i siciliani del città di Sant'Agata, Putiolana, Sestri Levante, i Lombardi del bis Novagiusano e il Canicatì. Quest'ultima realtà ha la possibilità di trovarsi in una posizione favorevole grazie all'annunciata fusione del Treppini-Mattese, società teoricamente avente diritto come sesta classificata della graduatoria. Il primo club degli esclusi in questa speciale classifica dunque è proprio il Corato che paga addirittura una differenza di millesimi di punto nei confronti del Canicatì, l'ultima delle ammesse in Serie D. Nulla in ogni caso è ancora precluso ai nero-verdi del presidente Giuseppe Maldera che potrebbero fare affidamento sull'ottavo posto vacante, quello destinato in origine alla vincitrice della Coppa Italia di Lettanti e ancora non assegnato. I Coratini nella graduatoria di Coppa sono secondi per media punti alle spalle del Sestri Levante che però è già in Serie D e quindi possono contare su una posizione di totale privilegio per brindare al tanto agognato salto di categoria. Nessuna sorpresa infine per quanto concerne le retrocesse dalla Serie D all'eccellenza. Nel girone H la Lega Nazionale di Lettanti ha certificato la retrocessione di Nardò e Grumentum per la peggiore posizione di Salentini e Lucari. Nella classifica avulsa trecola nocerina che resta invece in quarta serie. Il club Nerettino tuttavia non resterà a guardare e ha annunciato di aver già inoltrato il ricorso al collegio arbitrale del CONI.